Perché questa grida? È morta la regina, mio signore. Sarebbe pur morta. Un giorno o l'altro, il tempo per quella parola sarebbe pur dovuto arrivare. Domani, domani e domani, striscia a piccoli passi. Giorno dopo giorno. E così, fino all'ultima sillaba del tempo prescritto. E i nostri ieri hanno illuminato a dei pazzi il cammino verso la polverosa morte. La vita non è che un numero in cammino. Un povero attore che si pavoneggia per un'ora sul palcoscenco. E del quale poi non si sa più nulla. È una storia narrata da un idiota. Pieno di strepito, di furore. Ma è priva di alcun significato.